Il contenuto dell'articolo, pesce di mare, grasso, legumi e noci, carne rossa, uova, frutti di mare, verdure, arancioni, prodotti integrali, avocado, frutti di bosco, i capelli hanno bisogno di vitamine e minerali per la crescita e la forza, l'acido ascorbico nutre, idrata i bulbi, la biotina migliora il funzionamento delle ghiandole sebacee, regola il metabolismo, la vitamina e protegge il cuoio capelluto dagli effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette, Accelera la crescita e dona ai ricci una lucentezza e una setosità naturali Silicio, rame e zinco rendono i fili resistenti ed elastici e prevengono la forfora Fai una dieta quotidiana adeguata includendo prodotti per la crescita dei capelli Pesce di mare grasso Il pesce contiene acidi grassi omega 3 e proteine, che alleviano l'infiammazione del cuoio capelluto, prevengono la forfora, normalizzano le ghiandole sebacee e rafforzano le radici I capelli crescono più velocemente, diventano morbidi e piacevoli al tatto Includere nella dieta 3-4 volte a settimana diversi tipi di pesce di mare, salmone, tonno, sardina, pollock, nasello, passera, sgombro Contengono vitamine A, diede benefiche, rame, zinco, potassio, fosforo e iodio Legumi e noci Gli acidi grassi omega 3 si trovano in tutti i tipi di frutta a guscio Prodotti per la crescita dei capelli, mandorle, anacardi, nocciole o noci Mangia una piccola manciata al giorno Le noci contengono vitamine A ed E, la biotina, che rallenta l'invecchiamento delle cellule Rinforza e nutre i follicoli Restituisce i fili ad un aspetto sano Elasticità Includi lenticchie, piselli e fagioli nella tua dieta quotidiana I legumi rafforzano anche le radici Prevengono la fragilità e la caduta dei capelli Hanno un effetto benefico sul cuoio capelluto Contengono molte proteine, ferro e zinco facilmente digeribili Per saperne di più perdita di peso con l'avena i semi di soia sono utili in qualsiasi forma Aggiunti al cibo come ingrediente o consumati come piatto indipendente Carne rossa I capelli hanno bisogno di proteine e ferro Gli alimenti che fanno bene ai capelli sono carni rosse Ad esempio, il manso 100 grammi contiene 29 grammi di proteine Necessarie per il corpo come materiale da costruzione delle cellule Il ferro nella carne rossa migliora la circolazione sanguigna È coinvolto nella produzione di emoglobina Che trasporta ossigeno alle cellule Compresi i follicoli piliferi Per preservare le proprietà utili del prodotto Vaporizzalo Nuova I prodotti per rafforzare i capelli arricchiscono il corpo di proteine e ferro Con una mancanza di questi componenti Il cuoio capelluto si asciuga I follicoli piliferi sono esauriti Chiazze calve Compaiono le doppie punte Oltre alle proteine e al ferro Le uova contengono biotina Che aiuta a rafforzare i capelli Lo zinco, il selenio e lo zolfo Nutrono intensamente anche i follicoli indeboliti Proteggendoli dagli effetti negativi dell'ambiente Assicurati di essere allergico prima dell'uso Frutti di mare Gli acidi grassi e le proteine omega 3 Si trovano anche nei frutti di mare Prodotti che influenzano la crescita dei capelli Ostriche, gamberi, alghe Gli acidi grassi rafforzano i follicoli piliferi Li caricano di vitalità ed energia Le ostriche hanno molto zinco Che supporta il ciclo di vita dei follicoli Previene la calvizie Elimina secchezza ed esquamazione del cuoio capelluto I gamberi contengono proteine, vitamine del gruppo B e D, zinco e ferro Una porzione di gamberetti con un volume di 100 grammi contiene il 32%, alghe 48%, ostriche 38% del fabbisogno giornaliero del corpo per la vitamina D Per saperne di più le 8 migliori creme idratanti per i piedi verdure arancioni La dieta per la crescita dei peli sulla testa raccomanda di mangiare verdure arancioni almeno 3-4 volte a settimana La vitamina A, che supporta il colore dei frutti, è coinvolta nel rinnovamento cellulare, sostiene il cuoio capelluto in tono, fornisce un'alimentazione intensiva e l'idratazione dei capelli secchi Il secondo componente delle verdure arancioni è l'acido ascorbico, che neutralizza le sostanze nocive e le rimuove dalle cellule Per rafforzare i follicoli, includere carote fresche, zucca, peperone nella dieta quotidiana Prodotti integrali In orzo, avena, grano saraceno, le vitamine B sono responsabili della crescita dei capelli 6, a 12, zinco, selenio, rame, ferro e aminoacidi Con la loro carenza, i capelli si assottigliano, si spezzano e si sbiadiscono e le punte si seccano e si spaccano Il pane integrale e i cereali magri nella dieta quotidiana stimolano la crescita, rendono i riccioli setosi e densi, li proteggono Dalle sostanze irritanti esterne Avocado Questo frutto esotico è una fonte di vitamina E 200 grammi di avocado contengono il 21% del fabbisogno giornaliero di antiossidanti nell'organismo La vitamina E rimuove le sostanze nocive dalle cellule e accelera il loro rinnovamento, stimola la crescita dei capelli Se usi gli avocado 4 volte a settimana, la quantità di perdita di capelli è ridotta Gli acidi grassi negli avocado sono anche importanti La loro carenza è una delle cause dell'alopecia, calvizie, frutti di bosco Questa è una ricca fonte di vitamina C, che neutralizza l'azione di sostanze e tossine nocive, rafforza i follicoli, favorisce una rapida crescita L'acido ascorbico è coinvolto nella produzione di collagene, è responsabile della forza, della densità e dell'elasticità dei capelli La vitamina C aiuta ad assorbire meglio il ferro, aumenta l'emoglobina e accelera il trasporto di ossigeno alle cellule insieme al flusso sanguigno Per saperne di più ringiovanimento e loss, volti, foto prima e dopo la procedura Controindicazioni al ringiovanimento e loss in assenza di bacche nella dieta quotidiana e una carenza di acido ascorbico nel corpo I fili si assottigliano, il rischio di calvizie aumenta Lamponi, mirtilli, mirtilli, ribes nero, fragole e kiwi sono utili per capelli sani e per tutto il corpo Mangia bacche fresche ogni giorno durante la stagione 140 grammi di fragole contengono il 140% e due kiwi, il 100% del fabbisogno giornaliero di vitamina C Prerequisito, il cibo non dovrebbe causare una reazione allergica alla pelle Pertanto, dosare porzioni di bacche e frutti